Il futuro dell'Europa è il rischio, non solo il nostro. Questa crisi si è appartuta su chi aveva bisogno di tutele e da qui dobbiamo ripartire, dalle tutele e di chi ne ha più bisogno. Io e la mia generazione siamo cresciuti come cittadini europei, per questo penso che le piazze di oggi, le piazze europee, piene di persone, di studenti, di lavoratori, siano il vero cuore dell'Europa oggi. Da Bucarest a Praga, passando per Stoccorro, Madrid, Lisbono, Atene, queste piazze oggi dimostrano che un'Europa diversa è possibile, perché un'Europa è fatta di cittadini come noi. Oggi siamo scesi in piazza in difesa del lavoro e il 17 novembre scenderemo in piazza in difesa del diritto allo studio e continueremo a farlo finché non vedremo l'area di cambiamento, quell'area di cambiamento che oggi si respira nelle nostre piazze. A lavoro e alla lotta!